È un'opera importante, la Casa dei Cittadini della città di Vallefoglia, proprio a fianco alla Casa della Salute e alla scuola sempre in legno Federico da Montefeltro. Se tutto fila liscio, il prossimo anno di questi tempi dovremmo essere lì in quella struttura nuova, una struttura dove c'è anche una bella sala del Consiglio che può essere utilizzata per le attività comuni da parte dei cittadini, delle associazioni e così via. E soprattutto c'è un forte risparmio, una razionalizzazione degli uffici perché saremo tutti lì, fermo restando che lasceremo delle presenze a Sant'Angelo di Lissero col bordo, soprattutto per le persone anziane nelle zone collinari. Però è un'opera importantissima e poi penseremo anche come utilizzare gli spazi che abbiamo perché sono tutti di proprietà del Comune, abbiamo un patrimonio di circa 50 milioni di euro, abbastanza importante per renderlo fruttifero. Comune che pensa anche ai più giovani perché a Bottega verrà realizzato un punto all'aperto di fitness e palestra per i ragazzi, soprattutto in questo periodo che le palestre sono chiuse da diverso tempo. Noi abbiamo messo a disposizione tutte le piste polivalenti che sono un bel numero nella città di Vallefoglia e abbiamo realizzato questa struttura, diciamo tipo palestra all'aperto perché possono utilizzarlo, anzi direi che hanno già cominciato ad utilizzarlo, è un posto bellissimo lì a Bottega, abbiamo molti parchi con molte attrezzature per i bambini, quindi è una città molto giovane, sono tante le copie giovanissime, ma anche quelle persone più adulte possono fare del movimento, della ginnastica, della palestra all'aperto, è un costo anche abbastanza contenuto, sotto 10 mila euro, però è importante per la città, per i cittadini, per la nostra comunità.